Eccoci e bentornati sul mio canale! Oggi siamo in complania di WWE Immortals, gioco sviluppato dalla Warner Bros. Dovremmo far scendere su ring le nostre superstar del mondo WWE. Quindi ci saranno tantissimi personaggi, quindi John Cena, Undertaker, The Bella Twinks, The Rock, Stone Cold e tanti tanti altri. Ovviamente un mare immenso di mosse, dovremo accrescere i nostri poteri, dovremo potenziare i personaggi e soprattutto sbaragliare gli avversari. Ovviamente il roster, quindi la nostra squadra, sarà in continua evoluzione secondo il nostro stile e dovremo schierare in prima linea i migliori combattenti della WWE Immortals per affrontare i nemici più cattivi. Saltiamo l'introduzione e andiamo direttamente nel vivo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno consigliato questo gioco, così lo andiamo subito a vedere nel vivo. È prevista anche battaglie multigiocatori, infatti è previsto il comparto multiplayer online. Allora, cominciamo subito a provarlo. Porco cane, belle ambientazioni così. Scori verso destra e sinistra per attacchi pesanti. Oh, porco cane! Che cacchio fai! Desmentrante! Tocca l'icona di un personaggio per farlo salire sul ring. Bella! Bella la gnoccona. Tieni premuto due dita per parare e andiamo all'attacco. Su, su, su. Parando si blocca una certa quantità di danni. Su, 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 su. Combattendo si genera adrenalina. Ok, quindi sicuramente qualche attacco speciale. Combatti per accumulare adrenalina per una mossa speciale. Va bene, tutto quello che vuoi. Su, su, su. Perfetto. Uno. Tocca la prima icona mossa speciale. Vai. Tocco rapido. Centoc... Che gli ha fatto? Continua a combattere e raggiungi il livello limite di adrenalina. Su, tanto questo è un tutorial, quindi non penso che ci saranno energie e quant'altro. Infatti non vedo che sia... Oh, che cacchio. Quasi matto. Non ci prova più. E andiamo a fare la mossa finale. Oh, così proprio? Mamma mia, bot... Eh, porco cane, che cacchio. Di cosa assurda gli ha fatto. Congratulazione. Ora conosci le basi del combattimento. Mamma mia, Big Show, Trish Stratus e, ovviamente, Roman. Una nuova carta si è stata aggiunta alla tua collezione. Roman Reigns. Questo... Questo non lo conosco. Ovviamente Big Show, ovviamente identico. Andiamo avanti. Quindi abbiamo anche aumentato le nostre caratteristiche. Hai completato questo match. Seleziona la battaglia. Allora, questa l'abbiamo completata. Se io vado in questa... Battaglia 2, livello 1-10. Lotta contro una serie di potenti superstar e dive WWE. Oh, Randy Orton, Daniel Bryan e Paige. Che dite, ragazzi? Andiamo? Andiamo a fare sto combattimento. Vai, inizierei subito con Big Show all'attacco. Va? Particolari, soprattutto queste ambientazioni, questo genere di grafica. Oh, porco cane. Partiamo subito. Devasta e capocciata per Big Show. L'unica cosa di Big Show che è porco cane è troppo... Troppo lento. Oh, e tappate. Ce la fa... È troppo lento nei movimenti come... Oh, però, quando... Quando va... Oh, porco cane. Vieni qua. Subito prima mossa. La Cobra Clunch. Vai! Mamma mia! Grande Big Show! Oh, porco cane. È difficile pure riuscire a rallentarlo. Forza. Ok. Vieni qua. Vieni qua. Oh, che cacchio. Ahia, ahia. Avvelenato. Oh! Mossa speciale anche per lui. Mossa speciale anche per lui. Forza. Forza. Vieni qua. Vieni qua. Mossa speciale per noi. Su, 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 su. Ok. Forza. Leva gli è più energia che puoi. Grande Big Show. Grande Big Show. Cambio. 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 Forza. Vieni qua. Questo non l'ho mai sopportato. Ok. Vieni. Vieni. Dai. Tenta. Oh! Ci ha tentato la mozza. Gli è venuta pure bene la Technical Experience. Forza. Attacchi potenti per Big Show. Forza. Vieni qua. Andiamo. Con Trish. Trish. Su. Attacco. Su, 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 su. Su, 145. Con il giro a 360 gradi. Entra la Gentildonzella. Attenzione alla Gentildonzella che cerca. Oh! Mossa. K.O. Con colpo di testa. Sottrae adrenalina. Stan fame. Ci ha levato l'adrenalina. Porco cane. Forza. Bene così. Ci piace. Su, su, su. Mamma mia che gli stiamo a fa'a'. Forza. 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 Proviamo un po'. Adesso l'ultimo combattente. Ehi che cacchio. Via. E mamma mia. Mi toglie sempre l'adrenalina. Andiamo con il, con il guerriero romano. Con il guerriero romano. La super pan. Superman punch. Bo. Fomentatissimo il guerriero. Dai eh. Mamma mia. Che sta a fa' il guerriero romano. La Dragon's Crew. Per lui. Ehi. Ci ha preso sto cacchio. La technical experience nuovamente. Cazzotti. Cazzotti. Forza. Forza. La Superman. K.O. Per te. Uno sconfitto. Ne restano ancora due. Due. Ancora due. Forza. Forza. Bene. Sconfitta anche lei. K.O. Rendi solamente. Rendi Horton. Cacchio. Rendi Horton. Attenzione a Rendi Horton. Mannaggia la miseria. Con ste cacchio. De cose che ci avvelenano. Mossa. Mossa. La Superman punch. C'è che ti rimanderà al creatore. Ok. La nostra triade ha vinto Big Show, Trish Stratus e Roman Reigns. Aumentati anche di livello così sono aumentati anche i danni e anche i nostri crediti a disposizione. Mamma mia quanto me so fomentato Big Show è veramente epico. Ok. Vittoria per noi. Torniamo indietro. Ok. Vediamo un po' perché ci dice ancora di combattere con questo perché penso che ci sia quest'altro trio. Vedi? Big Show, Nikki Bella e Kane. Quindi sempre nella battaglia due. Allora facciamo una cosa ragazzi. Ditemi che cosa ne pensai di questo gioco che secondo me è molto particolare e molto interessante. WWE Immortals. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.